Castello di Sorrivoli, ronco freddo, di proprietà degli accivescovi di Ravenna e poi dei Malatessa e quindi della chiesa, fu acquistato da Iroverella, XV secolo, con i quali conobbe il suo momento di maggior splendore. Al suo interno era attiva anche una stamperia. Distinti Iroverella, il castello passò agli Allocatelli e dopo la guerra alla chiesa. Oggi ospita una comunità di recupero e un ristorante. Oggi ospita una comunità di recupero e un ristorante. Oggi ospita una comunità di recupero e un ristorante. Oggi ospita una comunità di recupero e un ristorante. Oggi ospita una comunità di recupero e un ristorante. Oggi ospita una comunità di recupero e un ristorante. Oggi ospita una comunità di recupero e un ristorante. Oggi ospita una comunità di recupero e un ristorante. Oggi ospita una comunità di recupero e un ristorante. Oggi ospita una comunità di recupero e un ristorante. Oggi ospita una comunità di recupero e un ristorante.